Ciao a tutti, sono Alex Massari e vi do il benvenuto in questo spazio multimediale dedicato alla didattica, dove oggi affronteremo il riff di Airbreaker, un riff importantissimo del repertorio rock che non può mancare nel bagaglio tecnico di un chitarrista. Non solo rock. Dunque, il riff in questione è incentrato principalmente sulla scala bluesy, di La, che ricordiamo è La, Do, Re, Mi bemolle, Mi, Sol. Vediamo la diteggiatura. La diteggiatura parte con un anticipo sul Sol, sull'ultimo quarto. Il Sol è tirato, c'è un bending di un quarto di tono. Passiamo alla quinta corda a vuoto, La, sempre quinta corda a terzo tasto, Do. Passaggio cromatico da Re, Mi bemolle, Mi, per ritornare sul Sol, ancora con il bending di un quarto di tono. E ricade su La a vuoto, per iniziare il riff. Le due tecniche principali utilizzate all'interno del riff sono principalmente il bending, che troviamo sul Sol. Il bending in questione è di un quarto di tono, quindi non arriva al semitono successivo. Dovete semplicemente tirare appena questa nota per poi ricadere su La a vuoto. Potete diteggiare questa nota con il terzo dito, o anche accompagnarvi con il medico. L'altra tecnica utilizzata è quella del vibrato. Il vibrato si trova sul Do, sulla quinta corda, al terzo tasto. E senza queste due tecniche il riff probabilmente non avrebbe lo stesso sapore. Faccio un esempio. Adesso facciamo l'esempio con le due tecniche utilizzate. Decisamente un'altra cosa.